In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti E se berranno qualche veleno, non recherà loro danno Imporranno le mani ai malati e questi guariranno Shalom fratelli e sorelle in Cristo In questa bellissima pagina evangelica missionaria ci soffermiamo subito su un dettaglio Scacciare demoni, parlare nuove lingue, essere protetti dal male, guarire Sono segni che accompagnano quelli che credono Viene subito da esclamare quanta poca fede in noi Gli apostoli hanno resistito ai pericoli, alle fatiche, alle persecuzioni, alle prigioni Hanno resistito anche di fronte alla morte Sono morti? Sì, ma con la fede, per la fede E per questo ancora oggi vivono al cospetto di Dio Oggi nella solenne festa dell'Evangelista Marco Dobbiamo chiedere allo Spirito Santo di essere confermati nell'opera di evangelizzazione Di essere rafforzati nella volontà di vivere interamente per Gesù E di portare avanti la sua missione Di essere custoditi dall'incredulità Abbiamo bisogno di credere, di crescere nella fede Perché chiunque, incontrandoci, riconosca in noi la presenza eucaristica del Figlio di Dio Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro Fu elevato in cielo e sedetti alla destra di Dio Allora essi partirono e predicarono dappertutto Mentre il Signore agiva insieme con loro E confermava la parola con i segni che la accompagnavano Ecco, c'è un momento in cui Gesù deve allontanarsi dai nostri sensi Deve lasciarci andare Se Gesù si facesse vedere, si mettesse davanti a noi Non conosceremmo le sfide della vita Non matureremmo Non ci preoccuperemmo dell'evangelizzazione Evangelizzare è predicare con le parole e con la vita Evangelizzare è agire con Gesù E lasciarsi confermare attraverso i segni Nella vita del missionario Nella nostra vita, se viviamo con Lui la missione Ci sono e ci saranno continue firme di Gesù Preghiamo Gesù, attirami a Te Fammi entrare nel Tuo cuore Immergimi interamente nella Tua carità infinita E fa che già su questa terra Io sia concittadino del cielo Fratello dei Santi Misticamente unito al Padre A Te che sei Figlio Allo Spirito Santo Amore E a Maria Tua e nostra Madre Amen